Film del 2021 diretto da Simon McQuoid, il reboot della serie cinematografica uscita ormai ben 26 anni fa. Il film narra le vicende di Cole Young, campione di MMA ormai in declino, che per motivi a lui sconosciuti è nel mirino di Shang Tsung. Quest'ultimo infatti invia il suo migliore guerriero, Sub-Zero e altri assassini ultraterreni per ucciderlo. Per avere salva la vita, Cole dovrà allearsi con gli altri campioni della Terra e partecipare al Mortal Kombat. C'era moltissimo scetticismo nei confronti di questo film, non tanto per essere una pellicola tratta da un videogioco, che come sappiamo solitamente questo tipo di operazioni tira fuori della merda fumante, ma anche per il team tecnico, creativo e attoriale. Sostanzialmente quasi tutti sono al loro debutto cinematografico. Il regista, infatti Simon McQuoid, non ha mai diretto niente prima di Mortal Kombat e lo stesso discorso vale per gli sceneggiatori, alla loro opera prima. Se poi aggiungiamo il fatto che Warner ha deciso di far uscire questo film in contemporanea al cinema, dove possibile, e in streaming su HBO Max, diciamo che a me i coglioni sono girati parecchio, e non avevo grandissime aspettative per questo film. Ma una volta vista questa pellicola, lo scetticismo era lecito oppure no? Sì, ma anche no. Diciamo nì? Come è successo per Godzilla vs Kong, dobbiamo contestualizzare l'uscita di questo film nel periodo che stiamo vivendo. Oggettivamente questa pellicola è terribile sotto diversi aspetti, a partire dalla trama, che dovrebbe incentrarsi principalmente sul torneo, il Mortal Kombat appunto. Ma alla fine non conta una mazza, perché, come viene detto nel film, non è assolutamente vietato ammazzarsi di botte prima dell'inizio del torneo. Nonostante ci siano delle entità superiori che non vogliono che succeda. E qual è la giustificazione che permette la violazione delle tanto decantate regole di questa entità? Sono pigre. Ma la sceneggiatura l'ha scritta topogigio? No, per sapere. Ma i difetti non finiscono qui, perché i personaggi non sono scritti con il buco del culo, ma peggio. Come è successo per la saga cinematografica di Resident Evil, hanno voluto rendere protagonista un nuovo personaggio creato appositamente per la pellicola, ovvero Cole Young, il lottatore di MMA, che ha come pretesto e motivo per combattere la difesa della sua famiglia. E fine! Basta, non c'è nessun ulteriore sviluppo del personaggio. Nemmeno una crescita personale derivata dalla scoperta della sua stirpe, che è una cosa abbastanza importante. No, sti cazzi, scrittura superficiale e bonali. Ma se posso capire questa scelta di scrittura del protagonista, che è praticamente un mezzo per noi spettatori, per essere catapultati nell'universo di Mortal Kombat. Non posso però dire lo stesso dei personaggi presi direttamente dal videogioco. Sonya Blade e Jax sono dei semplici soldati che hanno il compito di raggruppare i campioni della terra. Liu Kang e Kung Lao sono lì per fare numero e mostrare le loro fatality. E Kano è semplicemente il personaggio più odioso e fastidioso di tutta quanta la pellicola. Persino le scene dove quest'ultimo deve combattere non sono poi così esaltanti. E questo è derivante dal fatto che hanno scelto un attore che non sa le arti marziali. Almeno così mi è parso di capire guardando il film. E Raiden ha praticamente lo stesso identico ruolo del film del 1995. Ma porca di quella puttana, hai un dio del tuono che sa le arti marziali e che spara fulmini. Sfruttalo! I cattivi poi non sono da meno tutti quanti scritti in maniera superficiale, nonostante molti di essi abbiano un background decisamente accattivante. Come Shang Tsung e Milina. Quest'ultima, a mio parere, è sprecatissima. Però ragazzi, questi difetti, soprattutto per un fan dei videogiochi come il Sottoscritto, vanno allegramente a farsi fottere quando iniziano i combattimenti. Già di base a me piacciono i film di arti marziali. E se poi li uniamo a Mortal Kombat, quindi sangue, fatality e mosse speciali, porca di quella puttana mi fate felice come un bambino di 5 anni. E ringrazio il cielo che la regia durante le scene di combattimento sia cristallina, nonostante comunque ci siano degli svarioni, come alcuni scavalcamenti di campo che possono confondere e non far capire chi stia menando chi. E anche qualche effetto visivo bruttarello. Ma quest'ultima cosa deriva dal budget del film. Solo 55 milioni. Ci sono poi delle belle citazioni ai videogiochi, come alcune frasi tipiche del franchise che abbiamo già visto nel trailer. E qui voglio dire che nel doppiaggio italiano non le hanno adattate. Quindi Flawless Victory viene detto effettivamente così. E per l'amor di Dio non lo fate mai più. E poi arriva il combattimento tra Scorpion e Sub-Zero. Anche loro scritti in maniera superficialissima. Ma porca troia quanto è bello il loro combattimento. Ben diretto con i personaggi che sfruttano a pieno le loro abilità. E pieno zeppo di riferimenti al videogioco. Ragazzi il combattimento inizia con questa frase. Come faccio a non esaltarmi? In conclusione Mortal Kombat, così come per Godzilla vs Kong, è un film che va contestualizzato al suo periodo d'uscita. Sicuramente un filmaccio da ciclo fantastiche avventure. E si merita effettivamente tutte le critiche che ha ricevuto. Ma se preso esclusivamente come film di intrattenimento, con magie e combattimenti d'arti marziali, è un film che va visto e stravisto. Soprattutto per staccare il cervello dal mondo reale e passare una serata piacevole. Poi se si è fan dei videogiochi, si può fare la caccia agli easter egg, che aumenta ancora di più il divertimento. Io sono Fjerdeluk e avete visto la recensione di... In pochi minuti. Se il video è stato di vostro gradimento, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale se non siete già iscritti e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Vi invito inoltre a seguirmi sui miei account social. I link, come al solito, li trovate qui sotto in descrizione. Detto questo è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!